In Salento torna l'ottava edizione di Figilo, il festival dell'informazione giornalistica locale che quest'anno ha stretto ancora di più il suo rapporto con il territorio, le scuole e l'università. L'edizione 2024 è stata un approfondimento sui nuovi possibili panorami della professione giornalistica, alla luce di nuovi strumenti di comunicazione e di una costante rivoluzione che combatte e si adatta ogni giorno, con la forza ridondante del web e dei social tra fake news, blog e viralità, nel nuovo scenario dell'intelligenza artificiale sempre più presente nelle nostre vite. Tra le giornate di incontri e dibattiti con direttori e giornalisti delle testate locali, docenti universitari, studiosi e responsabili della comunicazione istituzionale, per offrire a tutti gli operatori del settore uno spaccato che renda più nitida possibile una realtà veloce e invasiva che necessita di regole, ma anche di una diversa e costante attenzione. Un momento formativo importante con giornalisti importanti, questa ottava edizione del festival si è caratterizzata per il proprio ingresso nelle scuole, soprattutto nell'università del Salento, grazie alla collaborazione con i corsi di laurea di scienza della comunicazione e la magistrale in comunicazione media, digitali e giornalismo. Abbiamo tenuto lì le prime due sessioni, i primi due panel. L'intenzione di Figgio è quella di crescere sempre di più, di radicarsi sul territorio, di fornire a tutti i colleghi un'opportunità di crescita, di formazione. Infatti tutti gli incontri sono accreditati dall'ordine dei giornalisti. Per quanto riguarda il futuro di questa professione non è semplice rispondere. Dovremmo seguire quelle che saranno le prossime mosse a livello mondiale. Grazie. Grazie. Grazie.